Alla fine Tamaro lascia 5, arriva il cross di 5 sul secondo palo, stacca Garzone in rete! Rete delle clanese con Garzone ancora una volta! Un nuovo entrato porta in vantaggio la formazione di casa! Un ritorno, quello delle clanese in eccellenza nel ricordo di Ettore Sirignano, di un presidente che ha fatto la storia della formazione giallo-blu. Una vittoria per chi invece ne ha raccolto l'eredità Antonio Casale. Per uno strano scherzo del destino ci pensa Garzone a far esplodere la gioia dei giallo-blu. Lo stesso Mediano regalò sempre nei supplementari l'ultimo anno di eccellenza al club di Casale, con il successo nei play-out ai danni della Calpazio. E sempre lui doveva farsi perdonare dell'espulsione subita lo scorso anno. Un leader silenzioso della squadra di Martino, uno di quei giocatori che ha sempre fatto il proprio dovere, senza mai usare una parola fuori posto. Un giocatore che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, ma le clanese non ritrova solo l'eccellenza grazie a Garzone. I giallo-blu possono esultare anche per aver risvegliato l'orgoglio mirabelliano. Nonostante il Lando Delia fosse chiuso, infatti ci sono stati 200 tifosi assepiati su un balcone retrostante l'impianto, che hanno sostenuto senza mai fermarsi Lugiero e compagni. Un atto d'amore che, come si auspica il presidente Casale, possa proseguire nel tempo. Le clanese, per ritornare grande, ha bisogno della propria gente.